Siamo felici perché la sinistra finalmente è unita, riesce a riconquistare il suo posto, un posto giusto! Ci avete creduto fin dall'inizio o è stata una sorpresa anche per voi? No, è stato il candidato giusto scelto da una coalizione giusta e quindi noi eravamo fiduciosi dall'inizio. Giuliano, 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 Giuliano! Dove viene, dove ha votato? Io arrivo dal quartiere degli Olmi, un quartiere periferico di Milano. Da oggi non è più il quartiere dell'ex PDL Luppi ma è il nostro quartiere. Nei cinque seggi del quartiere Olmi, quattro a noi e uno al PDL. Milano è stato liberato, grazie a Giuliano di esserci riuscito. Un risultato straordinario. Immaginiamo l'Italia da Milano a Napoli, manca soltanto Roma e presto arriverà. Il vento è cambiato, ispira fortissimo da qua a Napoli, è un ciclone, è ora di dire basta se ne devono andare a casa. Dove sei? Io sono dall'Albania, però lotto qua per mio figlio che è un cittadino italiano. Loto per la libertà del mio figlio con tutto il cuore. Berlusconi, basta, qui per te è un posto, non ce n'è più. Berlusconi, basta, qui per te è un posto, non ce n'è più. Berlusconi, basta, qui per te è un posto, non ce n'è più.